Cambiamento personale presenta 15 segni che sei un INFJ, il tipo di personalità più rara al mondo L'acronimo INFJ sta per introversione, intuizione, sentimento e giudizio. Questo tipo di personalità è considerato uno dei più rari tra i 16 tipi di personalità di Myers-Briggs e rappresenta solo il 2% circa della popolazione mondiale. Le persone che hanno questo tipo di personalità hanno caratteristiche molto particolari che le aiutano a distinguersi dagli altri individui. Possono essere incredibilmente misteriosi ed emotivamente intelligenti e vengono talvolta definiti il consigliere o l'apostolo. Anche se pensiamo di conoscere molto su questo tipo di personalità, in realtà è molto fraintesa. Quindi, esploriamo alcuni dei tratti principali del tipo di personalità INFJ e scopri se sei uno di loro. 1. Diversa lunghezza d'onda Gli individui di tipo INFJ si sentono spesso estranei poiché gli altri non li comprendono. La loro principale funzione cognitiva è l'intuizione, che gli consente di notare schemi in modo subconscio. Questi schemi riguardano principalmente la natura umana, poiché la loro funzione secondaria è il sentimento che li spinge verso gli altri. L'intuizione è una sorta di abilità psichica che permette di capire le cose in modo subconscio senza sapere come o perché lo si sa. Tuttavia, gli INFJ hanno difficoltà a spiegare questo sesto senso ad altre persone, il che spesso li fa sentire isolati o incompresi. 2. Vogliono le cose perfette e spesso procrastinano Le persone con personalità INFJ sono spesso preoccupate dal fallimento e cercano di raggiungere la perfezione in ogni cosa, superando le normali capacità di una persona comune. Questo comportamento li porta a procrastinare spesso per cercare di raggiungere l'assoluta perfezione. Gli INFJ hanno difficoltà ad accettare le critiche e spesso le amplificano nella loro mente, arrivando a dimenticare i feedback positivi ricevuti. Tuttavia, con il tempo e la maturità, diventano più capaci di liberarsi da questo bisogno di perfezione e di concentrarsi sulla propria autostima per raggiungere i loro obiettivi nella vita, permettendosi di commettere eventuali errori lungo il percorso. 3. Valorizza la bellezza e la qualità La bellezza e la qualità sono cose che un INFJ cerca di trovare in praticamente tutto. Semplicemente preferiscono essere circondati da eleganza e bellezza. Sono particolarmente attratti dalle cose di alta qualità, come il cibo pregiato, i vestiti belli e tutto ciò che è di buona fattura. E anche se il loro focus sugli oggetti sofisticati va contro la loro natura spirituale, la bellezza è una forza molto ispiratrice e calmante per loro. Detto questo, gli INFJ sono tipicamente minimalisti. Preferiscono avere poche cose belle invece di molte mediocri. 4. Esprime calore e fascino Molte persone non si siedono accanto a uno sconosciuto e non si confidano, ma gli INFJ sono così affascinanti che spesso gli sconosciuti condividono con loro le proprie paure, sogni e segreti personali. Questo tipo di personalità ha un'aura che fa sentire gli altri a proprio agio e in pace quando sono intorno a loro. Sono amati da tutti e sono molto bravi a mettere le persone a proprio agio. Inoltre, sono individui affidabili e affascinanti, dotati di un grande ascolto attivo e di una capacità di comunicare in modo comprensibile, capendo gli altri. 5. Capiscono gli altri Gli INFJ sono abili nel leggere gli altri individui, capiscono in pochi istanti gli stati emotivi e le motivazioni. Tuttavia, loro stessi non sono altrettanto facili da comprendere, il che può complicare la reciproca comprensione. Oltre a saper leggere con precisione le emozioni e i sentimenti degli altri, gli INFJ utilizzano la loro intuizione per andare in profondità nella mente dell'altro individuo, mostrando un grande interesse nel comprendere ciò che lo rende unico. Possono facilmente percepire quando qualcuno sta mentendo loro o anche quando qualcuno si sta illudendo. 6. Assorbono le emozioni altrui È comune per gli INFJ assorbire le emozioni degli altri e interpretarle come se fossero i propri sentimenti. Ad esempio, se qualcun altro intorno a loro è entusiasta, spesso si entusiasmeranno anche loro. Se qualcuno è stressato o ansioso, possono sentirsi stressati o ansiosi anche loro. Sentire le emozioni degli altri oltre alle proprie può essere travolgente, ma fornisce anche una migliore comprensione di quei sentimenti e la capacità di guarire e confortare gli altri. Gli INFJ possono tranquillamente rassicurare le altre persone che andrà tutto bene. 7. Creare intimità emotiva profonda Molti INFJ possono apparire riservati o timidi in presenza di persone che non conoscono bene. Spesso vengono percepiti come misteriosi o semplicemente riservati. In realtà, sono molto orientati alle relazioni interpersonali, ma potrebbe richiedere un po' di tempo per aprirsi agli altri e mostrare la loro vera essenza. Gli INFJ cercano connessioni autentiche e desiderano fidarsi delle persone su un livello più profondo. Grazie alla loro notevole capacità di empatia e di conversazioni significative, sono in grado di stabilire forti legami emotivi con le persone di cui si fidano. 8. Natura introversa Nonostante gli INFJ siano facili da socializzare, sono individui introspettivi. Sanno come integrarsi efficacemente in ambienti sociali, ma si sentono a loro agio solamente con un piccolo gruppo di amici fidati, che sono degni del loro affetto. Come la maggior parte degli introspettivi, gli INFJ si sentono spesso sopraffatti ed esausti in grandi ambienti sociali o folle. Anche se hanno una naturale capacità di brillare in questi ambienti sociali, hanno bisogno del proprio tempo da soli per rilassarsi e ricaricarsi. 9. Sensibili ai conflitti Gli INFJ sono particolarmente sensibili ai conflitti, i quali possono generare uno stato di stress. Questi individui tendono a cercare armonia nelle loro relazioni e desiderano che le persone a loro vicine contribuiscano al mantenimento di tale armonia. Quando un conflitto sorge, gli INFJ possono essere colpiti fisicamente, interrompendo il loro stato di costante ottimismo. Spesso hanno difficoltà a dormire o a concentrarsi se sono coinvolti o se il conflitto riguarda qualcuno a cui vogliono bene. Inoltre, il conflitto può portare a dolori muscolari, mal di testa, problemi di stomaco o altri fastidiosi disturbi fisici. Tuttavia, questo non significa che gli INFJ evitino completamente i conflitti. Nel corso del tempo, infatti, imparano a stabilire confini sani e a farsi portavoce delle loro esigenze, senza perdere la comprensione degli altri. 10. Focalizzati sul futuro La forza di volontà è un aspetto molto importante della personalità degli INFJ. Questi individui faranno spesso tutto ciò che è in loro potere per avvicinarsi ai propri obiettivi personali. Per esempio, se si trovano in una relazione che sembra non avere futuro, o se lavorano in un posto che non amano o dove non vedono prospettive, decideranno di porre fine alla relazione o di abbandonare il lavoro. Inoltre, gli INFJ sono molto critici nei confronti delle circostanze passate e tendono a ricordare le esperienze negative. Per evitare i sentimenti negativi che spesso accompagnano questi flashback, preferiscono di solito concentrarsi sul futuro e vivere una vita proiettata verso esso. 11. Attira le persone che hanno bisogno di aiuto Un INFJ è in grado di vedere il bene negli altri. Tuttavia, spesso cadono vittime della teoria dell'ala rotta, poiché credono di poter salvare gli altri. Spesso si ritrovano ad attirare persone che hanno bisogno di aiuto, grazie alla loro capacità di aiutare e guarire gli altri con compassione. Ciò può essere gratificante per i tipi di personalità INFJ, ma se vengono superati i limiti delle proprie barriere, può anche diventare molto stressante o frustrante. 12. Pensatore intellettuale Gli INFJ spesso si ritrovano a pensare molto profondamente al loro scopo, al significato e a ciò che rende tutto nella loro vita come amano la musica, la lettura e le questioni filosofiche o spirituali a causa del loro amore per imparare cose nuove e ampliare ulteriormente la loro comprensione del mondo. Naturalmente, a causa del loro bisogno di capire tali rivelazioni profonde, gli INFJ non cadono vittime di conversazioni banali o di pettegolezzi. Questa è una caratteristica estremamente positiva, ma presenta anche sfide nel godere delle cose semplici, come guardare un film o prendere un caffè con i colleghi. Gli INFJ spesso hanno difficoltà a rilassarsi o fare attività quotidiane senza pensare troppo. 13. Dotati di linguaggio A causa della loro natura introversa, gli INFJ trascorrono di solito il loro tempo libero dedicandosi ai loro hobby personali. Essere così perspicaci consente una vasta gamma di creatività, spesso accompagnata da una grande comprensione della lingua. Tuttavia, gli INFJ tendono a preferire la scrittura al parlare, perché la scrittura è un'uscita che consente loro di esprimere i loro pensieri o idee creativi senza troppe barriere. Le conversazioni con gli altri possono facilmente risultare superficiali o negative quando si parla di questioni opinabili, quindi evitano di parlare molto, a meno che non sia necessario. La scrittura fornisce un senso di relax e tranquillità perché è un piano più ampio per liberare i propri pensieri più profondi. Gli INFJ sono spesso scrittori molto talentuosi e di successo grazie alla loro capacità di intrigare nella loro scrittura. 14. Lavorano meglio da soli o in piccoli gruppi Anche se gli INFJ si trovano molto bene con gli altri, spesso fanno il loro miglior lavoro quando lavorano da soli, senza alcuna interferenza dagli altri. Oppure, possono lavorare con poche persone in cui hanno fiducia e che hanno processi di pensiero simili ai loro. E sebbene gli INFJ siano individui emotivi e altamente sensibili, possono essere abbastanza analitici e scientifici. Spesso apprezzano una carriera associata alla scienza, alla ricerca o alla tecnologia. 15. Si concentrano su ciò che è giusto A causa della loro natura amorevole e curativa, gli INFJ spesso si sentono obbligati a proteggere gli altri. 16. Possono difendere le vittime di bullismo o concentrarsi nell'aiutare qualcuno che sta attraversando una situazione difficile nella vita. 17. Se scelgono una carriera in cui l'aiuto agli altri non è previsto, probabilmente doneranno denaro o troveranno del tempo per fare volontariato in una organizzazione benefica. 18. I tipi di personalità INFJ si trovano anche ad avere paura di essere una cattiva persona, il che li motiva a fare ciò che credono sia giusto. 19. Il tipo di personalità INFJ è complesso, eccentrico e a volte contraddittorio. 20. E come ogni tipo di personalità, gli INFJ hanno sia punti di forza che debolezze. 21. Ma comprendere le loro caratteristiche può aiutare gli altri a convivere meglio con loro. 22. Naturalmente, alcune di queste caratteristiche sono cose con cui molte persone possono identificarsi, 22. Quindi il modo migliore per determinare il proprio tipo di personalità è fare un test sviluppato da specialisti. 23. Tuttavia, se ti rispecchi nella maggior parte di questi segni, è probabile che tu sia un INFJ, il tipo di personalità più raro al mondo. 24. Facci sapere cosa ne pensi. 25. In quanti di questi tratti ti rispecchi? 26. Sei un INFJ? 26. Se hai apprezzato questo video, metti un like e condividilo con i tuoi amici. 26. Per altri video come questo, clicca il pulsante Iscriviti e ricorda di cliccare sulla campanella delle notifiche, così verrai avvisato quando pubblicheremo un nuovo video. 27. Grazie per la visione! 28. Grazie per la visione!